Lorenzo Lagorio, quattro nuove destinazioni, la dimostrazione che EasyJet creda a Malpensa e vuole continuare a investire. Malpensa è la base principale di EasyJet nel continente europeo e in Italia, abbiamo 22 aeroplani basati e quest'estate opereremo ben 62 rotte, tra cui quattro nuove rotte, Salerno, Gran Canaria, Creta, Sizia e Tolosa, per cui un'offerta che è sempre in crescita. Ciononostante avete buttato l'occhio su Linate, da sempre c'è un tema di concorrenza tra i due aeroporti, la vostra strategia però è una crescita su Linate, non compromette una crescita su Malpensa? Ripeto, Malpensa è il cuore delle nostre operazioni in Lombardia, addirittura quest'anno arriveremo a offrire 8 milioni e mezzo di posti, di cui 5 milioni e 700 mila quest'estate. Linate però è un aeroporto importantissimo per noi, c'è un obiettivo strategico di crescere a Linate ed è una crescita complementare a quella di Malpensa. Sull'Inate abbiamo oggi rotte su alcuni importanti capitali e centri di business europeo, per cui vogliamo da Linate a Parigi, a Londra, a Amsterdam e a Berlino, vorremmo poter fare di più. Speriamo che ci sia l'opportunità di farlo anche in base a quello che succederà adesso e che verrà deciso in termini di remedies a seguito dell'operazione di Lufthansa e di Ita. Tra le quattro nuove destinazioni di Malpensa non c'è Roma-Fiumicino, una rotta che operavate fino a qualche anno fa, una rotta che il territorio chiede, anche se era stata chiusa da voi, anche da compagnie concorrenti, perché non era economicamente sostenibile, le chiedo se è nei vostri piani, è nella vostra agenda quella di riprenderla in considerazione. No, al momento non è una rotta che prendiamo in considerazione.